Sono un uomo che vive di musica da 41 anni, vive di musica sotto ogni aspetto, quindi ammetto che porto acqua al mio mulino, proprio se la musica mi fa vivere, mi ha dato da vivere, mi ha dato una vita meravigliosa e quindi io ci credo nella musica e ci ho sempre creduto, perché la musica è qualcosa in cui credere, quando l'ascolti per quei 10, 5, 20, 40 minuti tu non stai credendo, proprio ci credi, ti arriva, diventa ed è tua, specialmente quella a cui dico di fatti alla musica a cui appartengo, io nella musica ci credo.